Settimana scorsa ho vissuto un'esperienza veramente speciale, è arrivata una cliente in farmacia ed era veramente spaventata. L'ho fatta sedere e abbiamo portato un bicchiere d'acqua e mi ha raccontato cosa fosse successo ed è stata quasi investita da un'auto e io veramente ero dispiaciuta perché era veramente così giovane, poi abbiamo dato un calmante così che ha avuto modo di calmarsi e era veramente grata di questo e poi se n'è andata e la cosa bella è che noi con questa professione possiamo veramente aiutare anche gli altri. Per fortuna non è successo niente di grave ma ho deciso comunque di prendermi il tempo e parlare con lei, lei era veramente grata per questo e grazie a questo ho capito che la professione che ho scelto veramente mi piace e mi dà anche la possibilità di aiutare gli altri. Siamo molto orgogliosi che Sabrina abbia scelto questa professione. Perché così sicuramente realizzerà uno dei suoi grandissimi sogni. Sì, perché fin da piccolina aveva questo desiderio di poter aiutare gli altri. Questa professione mi piace perché posso aiutare le persone quando escono, sono felice perché in un qualche modo sono riuscita ad aiutarle. Poi vivo ogni giorno delle nuove esperienze, delle nuove storie, dei nuovi clienti. Ogni giorno sono felice di andare a lavorare. Grazie a tutti.